Buonasera a tutti mi chiamo Letiano ed è la prima volta che arrivo all'ESC per me è una grande soddisfazione arrivare qua io mi occupo come Mattia di Digital Forensics e questa sera presento qualcosa su l'Android anche a me piace l'iPhone e ci divertiamo io e Mattia a passarci le varie informazioni su questi stupendi dispositivi perché al di là della parte estetica del prezzo che hanno effettivamente dietro c'è un bel po' di ingegneri quello che guarderemo questa sera sarà il down fisico di un dispositivo Android una delle poche cose che sarà ancora possibile per questi anni perché andrà a sparire anche questa possibilità l'argomento di questa sera lo suddiviso in diverse parti ho un po' di tempo hanno detto quindi guarderemo due tipologie di dispositivi interessanti sul mercato abbiamo i Samsung che sono i telefoni cellulari un po' più distribuiti nell'ambito del sistema operativo Android e i Mediatek ho scelto i Mediatek che sono i microprocessori che troviamo in tutti i telefonini che arrivano sostanzialmente dalla Cina famosi telefoni cinesi perché il Mediatek dà la possibilità di capire che cosa vuol dire fare un down fisico quindi ho preso un esempio la struttura della memoria del Mediatek così riusciamo a capire meglio quello che andremo poi a fare successivamente sui Samsung installeremo una diciamo recovery che altro non è che un mini sistema operativo caricato in memoria che ci consentirà di fare il down fisico del dispositivo allora la domanda è perché devo fare un down fisico nell'ambito della digital forensics spesso volentieri arriva un magistrato ti chiama tu vai alla sua scrivania lui ti dice questo è un telefono fammi una cortesia estrai tutte le informazioni che ci sono all'interno voi gli chiedete cosa e lui dice qualsiasi cosa che può essere utile quindi praticamente tutto e fai in modo che questa operazione qui non vada ad alterare il contenuto delle informazioni che ci sono dentro che detta così sembra una cosa molto semplice in realtà è a quanto complicato perché una volta che decidete di accendere il telefono da quel momento in poi che si accende state modificando il suo contenuto può essere che state facendo una modifica a un'informazione irrilevante per l'indagine ma comunque state effettuando una modifica del contenuto allora che cosa ci siamo inventati nell'ambito della digital forensic ci siamo inventati il down fisico su questi dispositivi per alcuni ancora si può fare una acquisizione fisica ovvero si può simulare che il telefonino diventa un computer e voi avviate da un cd rom che sostanzialmente non è altro che un pezzo di di programma lanciato in memoria e da quello eseguite una copia che potete andare a scrivere o all'interno di un sd card sul telefono oppure la potete esportare direttamente sul pc collegando il telefonino a il pc avendo prima installato qualche software della suite sviluppatore di android noi sostanzialmente stasera vedremo questo e tutto quello che noi andiamo a dire adesso vale se è possibile avere il boot del dispositivo non lockato che cosa significa il sistema per tiro android funziona un po' come un pc da un certo punto di vista c'è un bootloader che parte e fa partire poi il kernel che tira su i vari moduli e fa partire l'interfaccia grafica ecco il bootloader nel caso in cui nel caso nostro questa sera è un bootloader che noi possiamo manipolare cioè li possiamo dire non far partire sistema operativo ma fa partire un'altra cosa che si chiama recovery perché perché all'interno del vostro telefono c'è un'area di memoria che è destinata al sistema operativo android e poi hanno pensato di metterci anche un altro un'altra pezzettina di aria dove ci si infila dentro la cosiddetta recovery cioè è un avvio del dispositivo che vi consente di fare alcune operazioni di solito di default consente di resettare il telefono bene se io che sono un aspetto di forense riesco ad iniettare su quella partizione a parte una recovery che poi mi consente di fare la copia del telefonino come se fosse un hard disk ho ottenuto il risultato che volevo ok quindi noi partiamo dal presupposto di avere un bootloader con cui gli possa dire amico mio non avviare il sistema operativo ma avvia questa informazione questo pezzettino di codice che si chiama recovery nel nostro caso i tool che vedremo questa sera sono per i media tech abbiamo i famosi flash tool che è un banale programmino e invece per samsung odin dobbiamo naturalmente iniettare una recovery che ci consenta di fare quello che vogliamo noi e quindi dobbiamo cercare un qualcosa di specifico per quel modello che di solito per fortuna qualche sviluppatore crea e mette a disposizione non andiamo sicuramente a comprare il problema del bootloader locato è nato con con l'uscita di lollipop da quel momento in poi nel vostro telefono android potete decidere se avere il bootloader bloccato o meno perché qualcuno ha deciso di fare questa cosa qui per un semplice motivo se a mattia rubiamo il suo telefono android e lui ha messo naturalmente un codice noi quando l'aviamo ci troviamo il codice di blocco ma se mattia non ha bloccato il suo bootloader io posso immaculare un altro un altro codice che viene messo all'interno della partizione di recovery faccio partire con la partizione di recovery da quel momento io ho il controllo completo del dispositivo e non faccio altro che installare sopra il suo telefonino eventualmente il mio sistema operativo perdo i dati che sono contenuti all'interno ma chi se ne frega io nel frattempo ho di nuovo il telefono utilizzabile ok che cosa hanno pensato facciamo in modo che se qualcuno vuol fare il furbo e ti ruba il telefonino non riesce comunque a risentarlo perché perché non riesce a far partire nulla dalla partizione di recovery ok la domanda è ma come faccio io essere umano a capire se il mio telefonino ha il boot il bootloader loccato o meno allora la cosa più semplice da fare una entra nelle opzioni lo sviluppatore nelle opzioni avanzate va a vedere se il bootloader è loccato o meno oppure fa una cosa molto stupida avvia il telefonino in recovery vi accolgete subito nella recovery di solito l'esperto forense si accolge subito che questa è una recovery stock cioè una recovery originale e va se è una recovery originale va a vedere eventualmente c'è scritto se il bootloader è loccato o meno oppure su alcuni modelli di telefoni di certi operatori telefonici potete digitare questo codice e vi ottenete un'informazione che vi dice se effettivamente il vostro bootloader è stato loccato o meno chiaramente l'esperto forense cosa fa l'esperto forense se fa sia il telefonino non può accenderlo infilare il codice e andarci dentro a guardare perché ha già alterato il telefono l'esperto forense cosa fa lo fa andare fa partire con la recovery sperando che sia una recovery non originale così ho già fatto a metà del lavoro oppure nella recovery originale cercare di capire se effettivamente c'è un'informazione che dice se il bootloader è loccato o meno se parte la recovery e non c'è scritto assolutamente niente è molto probabile che il vostro bootloader sia libero quindi non sia loccato altrimenti se è loccato ve lo dice domanda e se è loccato che cosa faccio allora nel 2012 la motorola che fu la prima che manda fuori il proprio la propria versione di android con il bootloader loccato aveva un semplice un semplice meccanismo per cui in base al device id cioè un identificatore univoco di quel dispositivo creava un codice che era univoco buttando dentro quel codice si sbloccava il bootloader cosa è successo è successo che qualcuno ha trovato l'algoritmo per poter individuare dal device id questa chiave e lo vendeva sul web quindi voi cosa facevate avevate un motorola perfetto lo facciate partire in una modalità che consente di parlare con il bootloader perché il bootloader può interagire con tra virgolette con l'essere umano si chiama fast boot lì si fa una domanda una una richiesta molto semplice gli si chiede il device id che è questo si recupera il device id lo si andava in un sito web che a pagamento vi restituiva il codice e ve lo faceva sbloccare e avevate il bootloader sbloccato oppure in alcuni modelli molto semplicemente si andava a dare un comando molto stupido dicendo ok bootloader sbloccati tipo apriti sesamo e alcuni si sbloccavano le cose sono un po cambiate adesso sono tutti quanti che il bootloader se è bloccato non si recupera con questo meccanismo ma bisogna trovare eventualmente una bug per poter sbloccare almeno il bootloader perfetto l'espertoforese cosa fa non ha tempo di star lì a cercare i bug no o chiede a qualche amico se ha qualche idea oppure prende il portafoglio no va in un sito magari che gli ha consigliato un amico e si compra una bellissima black box sostanzialmente delle scatolette questa qua è la scatoletta della 3x che supporta una svalangata di android è una piccola scatoletta collegata che viene collegata al telefonino la quale permette di fare l'unlock di quello specifico modello del telefonino che cosa fa utilizza esclusivamente un bug di quel modello di telefonino specifico per poter prendere il il possesso e sbloccare il bootloader ok e io personalmente non ho mai provata su un s6 un collega ha utilizzato questa versione questa versione di scatolina e che ha funzionato perfettamente il costo ti vendono la scatoletta e poi ti danno un abbonamento a parte che ogni anno vai a rinnovare 300 euro ecco 300 euro per un esperto forense per poter fare questa cosa qui è una cifra che va molto molto bene ok quindi se avete un bootloader che è bloccato alla disperata potete tranquillamente andare alla ricerca di un software in internet in rete se ne trovano ok perfetto allora non ho questo problema stasera noi abbiamo un bootloader che gli possa far fare quello che voglio di cosa abbiamo bisogno di un computer in qualsiasi tipo di computer dove installate gli strumenti di sviluppatore per android la sdk non serve che vi scaricate tutto il mondo tutto il pacchetto sviluppatore soltanto la sdk in particolare dovete installare questi questi diciamo accessori se vi installate soltanto questi senza installare tutta la suite andate ad utilizzare soltanto esclusivamente quello che vi serve dopodiché questo è lo strumento che vi consente di parlare con il bootloader e poi con la recovery ok quindi questo qui viene installato nel pc e vi consente di parlare con il telefonino poi dovete avere i driver del telefonino se usate un mediatek dovete usare determinati driver della mediatek se avete un samsung dovete installare i driver della samsung se poco da fa dopodiché vi serve il tool per poter andare a flashare tra virgolette quel famoso pezzettino di memoria che si chiama diciamo recovery no e per samsung abbiamo odin 3 odin versione 3 adesso mentre per i mediatek abbiamo i flash tool tutto questo naturalmente è gratuito che per l'esperto forense è sempre un grosso aiuto questo ho aggiunto queste slide nel senso che se qualcuno vuole provare a farlo a casa qui sa i vari pacchetti che deve andare ad utilizzare e come andare a configurare per poter chiamare in automatico il demone di adb dopodiché una volta che voi lanciate questi flash tool questi odin vi compare una mascherina del genere questa maschera è molto importante perché vista così dice ben poco una delle caratteristiche che hanno i mediatek è che non sanno com'è strutturata questo questo strumento flash tool è uno strumento generale per diversi tipi di mediatek da sono diversi telefoni che montano questi tipi di microprocessori quindi voi dovete dare uno schema di come è fatta la memoria interna del telefonino ovvero gli dovete dire allora nella tua memoria un pezzettino è dedicato alla tua user data un pezzettino c'è boot rom un pezzettino ci sono i file che individuano come sono costruite le partizioni del telefonino un altro pezzettino c'è l'immagine del sistema operativo ecco queste informazioni qui sono contenute all'interno di un file che si chiama scatter file ogni ogni telefonino e ogni versione di quel telefonino ha quello specifico scatter file quindi la prima cosa che volete che dovete fare se dovete andare a mettere le mani sul vostro telefonino mediatek solo per i mediatek dovete andare a prendere una rom originale perché all'interno della rom originale c'è questo famoso file scatter che una volta che voi andate a caricare magicamente vi fa vedere come è costituita la memoria la memoria fisica all'interno del vostro mediatek cosa c'è c'è una parte utilizzata per la cache quindi c'è un pezzo di memoria usato per la cache un pezzo per i dati degli utenti che sostanzialmente detto in soldoni è l'unico pezzettino che mi interessa ci sono delle altre informazioni qui ad esempio c'è l'immagine del boot ci sono delle strutture le br1 le br2 che vanno a dire ad android com'è costituito le varie partizioni al suo interno modificando ad esempio questi file è possibile modificare lo spazio della user data cioè aumentare lo spazio utente all'interno del telefono c'è da sbizzarrirsi quindi l'altra cosa che dovete fare se dovete mettere mano sulla mediatek avere una rom originale cioè il firmware originale del vostro telefono ed è naturalmente scaricabile e gratuito su samsung su ordine è molto invece tutto molto semplice non c'è nulla di complicato c'è soltanto una bellissima interfaccia con quattro bei pulsantoni che cambiano ogni anno cambiano gli danno un nome diverso e bisogna soltanto cercare di capire qual è il pulsantone giusto per poter fare l'operazione che vi interessa allora all'interno del vostro telefono non c'è soltanto il firmware visto come il sistema operativo ci sono anche degli altri firmware cioè la parte telefonica la parte telefonica quella che parla effettivamente con la cella ha un firmware a parte ok e sta in un punto a parte che è sostanzialmente la baseband quindi questa qui è un'informazione è un firmware che voi non interessa andare a modificare neanche bull loader vi interessa andare a modificare e neanche alcune informazioni del provider che a volte i telefoni sono brandizzati e che il provider scrive all'interno delle informazioni tipo quali sono i suoi apn ecco anche quella è una cosa che a voi non interessa a voi interessa soltanto il tastino che si chiama ap sta per application è lì dove viene infilato dentro il vostro sistema operativo android è lì dove viene infilata dentro la recovery quindi di tutti questi bei pulsantoni che voi avete ricordatevi che dovete utilizzare il pulsante ap ok che è la parte diciamo più interessante una volta che avete caricato questo poi siete a posto questi qui queste informazioni possono essere tirate fuori direttamente dal vostro telefonino tanto per farci un'idea andando a digitare questo codice sostanzialmente questa qui vi dà la build della versione di android che avete al vostro interno le altre informazioni sostanzialmente per quello che dobbiamo fare noi ora non vi servono assolutamente ok allora un'ultima caratteristica dei driver del mediatek se non installate i driver del mediatek non riuscite a metterci le mano una caratteristica di queste driver è che il telefonino viene riconosciuto quando è spento cioè voi spegnete il telefonino lo attaccate al computer col telefonino spento lui si accorge che che è collegato il mediatek e vi dice sul sulla lista dei dispositivi che sente il mediatek quindi se voi lo collegate al telefono spento con batteria staccata e non vi compare questo dalla gestione dei vostri dispositivi non avete installato correttamente i driver ve lo dico perché spesso e volentieri si rimane lì a capire come mai il flash tool non riconosce questo telefonino perché i driver non sono perfettamente collegati fatto questo iniziamo a fare il forense allora il forense deve fare questa acquisizione fisica perché perché ha poco tempo da fare e deve e deve portare fuori questi dati allora che cosa faccio io prima di impazzire a cercare di infilargli dentro una recovery no vado a vedere che recovery ho perché magari questo qui è uno smanettone tra virgolette e mi ha già infilato dentro una recovery che interessa a me allora che cosa faccio faccio partire il telefono in modalità recovery ci sono delle combinazioni dei tasti che si possono premere sul telefono e fanno partire il telefono in questa modalità di recovery una volta che il telefonino è recovery voi e dovete parlare con questa recovery no e parlate avendo installato sul vostro computer la famosa sdk l'angolo sdk di prima no li fate partire un daemone che si chiama adb che consente di mandare dei comandi al dispositivo adb funziona molto bene e li vi consente di avere una lista dei dispositivi che sono collegati con un comando molto semplice dopodiché voi cercate di fare delle cose se se la recovery è una recovery di tipo stock c'è una recovery di tipo originale a qualsiasi comando che voi cercate di dare vi da picche della serie non sei autorizzato a fare assolutamente niente e vi dice accesso non autorizzato oppure non vi risponde neanche in questo caso qui vi siete trovate con la recovery che non vi consente di fare nulla che cosa dovete fare dovete infilargli dentro una recovery voi il bullone deve essere sbloccato e dovete perdere un po di tempo a cercare per quello specifico modello di telefono la recovery corretta se infilate dentro un'altra recovery che non c'entra assolutamente niente non distruggete apparentemente niente nel senso avete comunque modificato il telefono quindi dal punto di vista forense avete fatto una modifica del telefono non avete modificato i dati ma avete fatto una modifica avete infilato dentro del codice che non c'entra assolutamente nulla non è un problema in realtà il telefono non parte non avete diciamo reso il telefono inutilizzabile però a voi vi interessa fare l'attività quindi dovete assolutamente trovare la recovery che fa per voi e quindi vi dovete tra virgolette sbattere un po per cercare questo tipo di recovery facciamo finta che l'abbiamo trovata questa recovery no? perfetto allora faccio partire il mio flash tool perché adesso vado sul Mediatek mi tiro su il scatter file di quello specifico modello quindi mi sono scaricato da un sito qualsiasi del mio produttore quello specifico modello l'ultima versione del firmware ho il file scatter che mi dice com'è costituita la struttura interna della mia memoria bene allora che cosa vado a fare io nella struttura interna c'è appunto un'area di memoria dove c'è già la recovery di tipo stock cioè la recovery originale perfetto allora io che cosa faccio dal programmino non faccio altro che caricarmi la mia recovery quindi non vado altro che togliere tutti i flag tranne che questo e caricarmi la recovery questo qui è una particolare tipo di recovery molto conosciuta che è quella che mi consentirà di fare determinate operazioni una volta che l'ho trovata che cosa faccio come una pecola premo download e sto lì ad aspettare finché non mi compare questo cosettino verde quando questo cosettino verde ha finito tutto meno di 10 secondi ok a questo punto cosa avete fatto avete infilato dentro del codice sperando che sia quello giusto all'interno di questo telefono bene che cosa faccio faccio partire in modalità recovery una volta che sono partito in modalità recovery che cosa faccio io da un comando adb device e lui si accorge sì effettivamente è attaccato un qualcosa che ti dice nei recovery perfetto adesso do un altro comando per vedere se una shell do una adb shell e mi accorgo che ha un bellissimo un bellissimo command prompt di root perfetto se siete root avete già finito la vostra metà del vostro lavoro avete caricato una recovery che vi consente di avere il root a questo punto che cosa fate date il comando mount per vedere che cosa si è montato in automatico la recovery così vi fa capire se effettivamente si è montato anche la partizione utente perché è quella che deve essere un po' preservata che fosse meglio non montare ok dovete però capire un attimo com'è costruita all'interno la struttura della memoria no perché voi volete fare un dump soltanto di quella determinata partizione perché voi nell'ambito della forensics mentre una volta una volta si lavorava molto come le pecole no allora ci sono 500 500 dischi da portare via cosa facciamo portiamo via lo storage adesso no c'è uno storage di 70 tera che cosa mi serve mi servono quei dati perfetto voi arrivate lì e vi andate a prendere solo esclusivamente quello che vi serve quindi l'idea qual è vi portate via soltanto la partizione con i dati utenti la partizione con i dati utenti dovete capire dov'è no le informazioni sono scritte all'interno di un file che si chiama dumpchair underscore info e sostanzialmente nel file vi dice che il blocco chiamato mmc block 0 p7 questo k0 mmc blk0 e tutta la memoria questa diciamo è la fettina numero 7 è abbastanza standard nei mediatek è assolutamente quella che vi serve da portare via buon perfetto che cosa faccio io posso usare questa tecnica infilo dentro un sdk scusate una micro sd un sd card bene la la recovery visto che ce l'ho installata mi consente di fare determinate cose mi consente anche la recovery di montare le sd card che ho appena inserilato dentro quindi se volete o date il comando direttamente da linea di comando di shell oppure potete tranquillamente utilizzare la recovery che vi consente di giocarellare un pochettino e di montarvi la vostra sd card una volta che avete montato le sd card date il comando un banale dd e vi fate il dump fisico della partizione della fettina 7 direttamente all'interno del file nella sd card questa è uno degli innumerevoli possibilità da utilizzare se invece lavoriamo con il nostro amico samsung le cose sono molto più semplici ma così semplici ancora di più sostanzialmente dovete recuperare solo e esclusivamente la recovery e caricare in questo programmino molto stupido e premere il tasto aiuto start e poi aspettare nel frattempo nel telefonino compare tutta una serie di informazioni che sostanzialmente ti dicono per l'amor di dio non spegnermi perché adesso potresti fare un casino e altro non fa che che farvi partire poi una recovery questa è una T-E-I-V-R-P che vi fa vedere sostanzialmente questa schermata se voi fate partire i recovery vi compare questa schermata avete in mano il potere del mondo potete fare tutto quello che volete può succedere una cosa molto simpatica collegate questo affarettino qui questo affarettino questo recovery al vostro pc e potrebbe succedere che non accetta comandi adb cioè non accetta nessun tipo di comando di shell è successo ancora in determinati tipi di telefonino voi vi caricate la recovery che vi interessa e non funziona la db quindi non potete dare i comandi via shell oh mio dio qualcuno dirà e adesso cosa facciamo? niente si fa una cosa molto semplice si infila dentro una SD card queste recovery hanno la bellezza di avere anche una shell dove potete tranquillamente mandare dei comandi scritti direttamente con la recovery quindi non fate altro che aprire una shell mettervi lì lanciare il vostro bellissimo comando che avete testato precedentemente che c'è sempre il rischio di fare un po' pochio magari vado a scrivere dove non dovrei scrivere e in quel caso vi fate il dump direttamente sulla SD card utilizzando il terminale della recovery oppure se avete io utilizzo molto xubuntu potete lanciare questo comando se la db funziona potete fare una db una db pull ovvero risucchiare tutta la memoria non soltanto la fettina utilizzando questo comando direttamente dal vostro pc nel senso che infilate dentro collegate il telefonino in recovery al vostro computer io preferisco usare sempre le mie xubuntu lanciate questo comando e lui macina 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 nelle 6, 7, 8, 15, 16, 24, 48, 32 ore e porta fuori 8, 16, 24 30, 24 no 32, 64 giga di dati che poi per l'esperto forense questo è il primo step perché poi i dati devono essere messi sotto parsing perché io mi devo tirar fuori tutte le informazioni e una volta che ho tirato fuori tutte le informazioni devo capire quello che stavo cercando e poi pensate che sia finita qui no la fregatura è che devo fare una relazione e non è finita così perché dopo che ho fatto la relazione e mi sono fatto pagare poco dopo 2-3 anni ti dicono ti arriva a casa un fogliettino che ti dice devi andare davanti a un giudice a fare che? mi avete pagato mi avete sistemato tutto devi andare a spiegare quello che hai fatto ma l'ho fatto 3 anni fa le cose sono cambiate i programmi sono cambiati no? si infatti nella relazione tecnica voi avete scritto tutti i programmi che avete usato in quel momento no? perché sennò qualcuno ti contesta ma adesso si può fare questo e voi andate lì davanti al giudice no? voi siete degli esperti dei professionisti e vi ritrovate della gente che fa tutt'altro che pesa quello che dite quindi se dite qualcosa che io penso che sia così vi ha già ucciso e dovete riportare quello che avete detto e se dite qualcosa che non è scritto nella relazione avete qualcuno che vi spara addosso dicendo ma lei non l'ha scritto come mai non l'ha scritto ma se lei non l'ha scritto vuol dire che non la pensava ok quindi morale della favola io ho allungato il brodo più che potevo perché il talk era da 18 minuti ma mi hanno detto di fare un po' di più sostanzialmente vi ho fatto vedere con poche slide il lavoro che si impiegano si impiega 4-6 ore questo lavoro qui però insomma è abbastanza fattibile non so quanto avete capito se avete delle domande non l'ho fatto non l'ho pensato al lato commerciale vedi che purtroppo no caso forse impossibile l'Hollipop bootloader con password provato ho il flash tool per riflessare il firmware ovviamente dice dimmi la password telefonino senza SD card si ottimo con batteria non staccabile beh direi che perfetto così in questo caso qui Xiaomi 4C monta un mediatek questo vero? ma allora purtroppo flash tool il problema di hai provato con flash tool a cercare di caricando il suo file scatter vedere se riusciva a fare un dump delle partizioni ok è da vedere un attimo che versione di flash tool è perché con i Samsung devi avviarlo in boot mode e lui ti dice guarda è è loccato quindi non ne puoi fare assolutamente niente allora sugli zoppo che ho lavorato io ci ho giocato io in realtà non parte il bootloader nel momento in cui tu l'infili dentro non devi assolutamente farlo partire in bootloader basta soltanto che sia collegato sulla porta usb puoi tranquillamente fargli il flash e sparargli dentro la recovery potresti pensare di sparargli dentro anche un bootloader modificato perché? perché quando tu fai partire la recovery fai partire il bootloader originale se quello ti chiede la password vuol dire che devi cambiare anche quel signore lì quindi sarebbe da recuperare un bootloader modificato che non ti chiede la password potresti provare a fare una cosa del genere se la modifica viene scritta all'interno del bootloader comprare un telefono identico e fare il dump di quello il dump lo puoi fare avviando con la tua recovery e fare solo il dump della partizione del bootloader quindi ti porti fuori il bootloader e poi sempre con il flash tool li butti dentro il bootloader sperando che la richiesta di password sia scritta effettivamente all'interno del bootloader altrimenti spesso e volentieri diciamo così miracoli non siamo ancora attrezzati poi diciamo sempre per quello che ci pagate va bene così insomma ok qui lo dico e qui lo nego perché effettivamente non mi ricordo ma Mediatek credo che si possa dampare direttamente dal flash tool senza neanche far partire il bootloader quindi tutto dalla seriale dipende dalla versione quello che ho visto io non ci sono riuscito te lo dico sincera verità però dipende dalla versione del flash tool ho provato con un tool di basso livello per fare il dump e veniva fuori enter password e sul sito dicevano devi mandare alla Xiaomi il seriale il modello del telefono e loro ti mandano un sms con quella password perfetto allora a posto allora abbiamo trovato il walk around ma l'importante alla fine come dice come lo dice anche Mattia l'importante nell'ambito della nostra professione è arrivare a una conclusione se la conclusione è prendere l'indagato dargli una fracca di botte e lui ti dà la password va bene lo stesso perché tanto alla fine noi dobbiamo arrivare a un risultato che è quello di presentare un elaborato che poi andiamo a discutere dopo due o tre anni però effettivamente l'importante è quello quindi va bene anche il convincitore manuale si ma basta non dirlo non lo riportiamo nella consulenza va bene ciao ragazzi grazie 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 grazie